Ma secondo te, con 7.000 caffè quanti tiramisù ci vengono fuori? Io mi sono intreppato un pomeriggio a pensare questa cosa. Cioè, c'hai mai pensato che per un tiramisù ci vengono 5 caffè? Con 7.000 caffè ci vengono fuori 1.400 tiramisù, pensa. Grazie a tutti. Che cos'è Decore Podcast? Decore Podcast sono tutte le cose che ci fanno stare bene. È voler raccontare il percorso dell'ospite che ci viene a trovare attraverso le sue cose Decore. E Decore può essere tutto, può essere un film, un'esperienza, un ricordo, un libro, una canzone, una melodia. E noi è questo che vogliamo farci raccontare da Alex e lo faremo insieme passo passo. Solitamente iniziamo con la definizione che Wikipedia dà dell'ospite che solitamente è sbagliata. E si preoccupano tutti. Ma noi leggiamo solo l'incipit che dice Alessandro Britti detto Alex, Roma, 23 agosto del 68, è un cantautore e chitarrista italiano. Tutto giusto, confermi o c'è qualcosa da modificare? Per ora sì, poi continua o si ferma qua? No, questo è solo l'incipit. La partenza poi è molto lunga perché... Cantautore e chitarrista è il mio lavoro, quindi va benissimo. E invece l'incipit del tuo sito sulla bio dice È un chitarrista e cantautore solista, sin da quando giovanissimo attraversa l'Europa insieme a grandissimi del blues, quali Rosa King, Buddy Miles e Billy Preston. Sì, solista in questo caso non è proprio giustissimo, però insomma poi più o meno ci stava. Quando giravo per suonare per gli altri ero il chitarrista di, quindi non ero un solista. Poi cantavo anche, ma non fregava mediamente niente a nessuno, quindi suonavo e basta. Le bollette, l'affitto le pagavo suonando. Ci aggiungeresti una definizione, soprattutto sulla prima? Qualcosa? Sì, hanno saltato cuoco, non capisco perché. Uno che sa, tutta l'importanza della cucina, come me non mettono queste cose così importanti, però vabbè, si può modificare. O possiamo far aggiungere? Solitamente quando facciamo degli appelli, poi a fine puntata le pagine di Wikipedia sono cambiate. e quindi chissà che a fine serata non troveremo cuoco su Wikipedia di Alex. È probabile, sì. Hai girato l'Europa, però per andare in Europa bisogna partire da qualche parte. Ci dici tu, da piccolissimo, di che città e di che zona eri? E un po', visto che immaginiamo che si parla comunque della capitale, come ti sei spostato? Ma io nasco, sono nato, ho cambiato un po' di case, quindi posso dirmi di Monteverde Vecchio, dove sono comunque cresciuto. Sono nato a Viare Marconi, però poi sono cresciuto, cioè tutta l'infanzia e l'adolescenza a Monteverde Vecchio, fino a 20 anni, poi tra Stevere, altri 10 anni, sempre fino ai 30, però poi ho avuto dei periodi abbastanza lunghi, Amsterdam, Parigi, dipende dove stavo a lavorare. E poi mi sono spostato verso il mare, quindi dal 2000 sto vicino al mare, ho cambiato diverse case, AXA, Cilia, Palocco, insomma quella zona di Roma Sud lì verso il mare. Se ti chiedessero adesso qual è la tua zona dei core, cioè quella che senti un po' più tua? Dove sto? Lì quel quadrante, appunto AXA, Palocco, Ostia, Infernetto, Cilia, è una zona dove mi muovo, dove mi sento abbastanza a mio agio e dove mi trovo molto bene, infatti poi sono rimasto lì ormai da tanti anni. Senti, ce l'hai un ricordo de core da piccolissimo? Un'immagine, un flash, una fotografia? Proprio il primo ricordo che hai, qualcosa tornando molto indietro? Ma molto indietro? Ne ho tanti, ne ho tanti di ricordi in tutti i sensi. Mi ricordo abbastanza bene la Roma degli anni 70, non so perché, sono rimasto colpito da quel periodo, forse stavo bene, ho avuto un'infanzia molto felice e quindi mi ricordo tante cose di quegli anni. La Roma degli anni 70 è una Roma molto più divertente, secondo me. Si divertivano di più, si divertivano meglio, quindi ho un sacco di ricordi legati appunto alle feste dei miei genitori, io che mettevo i dischi, così loro ballavano, quindi mi ricordo che mettevo i dischi, non lo so, di Barry White, che era un po' la dance dell'epoca, quindi ho questi ricordi, ho i ricordi di Ostia, dove andavo tutta l'estate al mare, affittavamo la casa e quindi ho un sacco di ricordi del mare legati sempre appunto a Ostia, Torvagliani. Sempre è stato Roma Sud, quindi anche tutti i miei ricordi, i primi tempi che suonavo, che ero Monteverde, che giravo sempre con la chitarra, classica, muretto, scalinata della chiesa, sempre con la chitarra a cantare. Insomma non c'era la play, era una Roma diversa, era un mondo diverso, quindi c'era un sacco di ragazzini che si divertivano di più a suonare gli strumenti in generale, la chitarra, il pianoforte, piuttosto che ora, insomma. Poi ogni periodo storico ha le sue cose, però insomma di momenti decore, tra musica, feste, mangiate, insomma un sacco di ricordi goderecci. Io come prima domanda, guarda, la faccio anche senza usare il tasto, appunto ricordi chitarra? La domanda che è obbligatoria, la devo fare per forza. Tu che rapporto avevi con i falò? Perché c'è sempre, cioè facevi, eri quello che suonava la chitarra ai falò? No, no, perché ero anche dai faloisti, ero considerato quello strano, perché io facevo blues, facevo le cose strane, quindi io non ero bravo a suonare, era quello sì. Non facevi la canzone del sole, che ne so, Battisti? No, 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 mai fatto, anzi ero quello che magari dicevano, sì, dicono che è bravo, però non funziona, quindi non sono mai stato coinvolto. Non hai aiutato i tuoi amici, diciamo, ad ammucchiarsi durante i falò? No, 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 invece pensavo di sì, non lo so perché. Mi sa che l'ho fatto dopo da grande, mi dicono che un sacco di canzoni mie, poi si elementano, insomma, come musica, un po' da scortico. Dicevo io, pomiciato mentre Alex Britti mi suonava chitarra, era una roba, era da mettere proprio in cameretta. Eh, però non è successo, è successo dopo, che magari poi diciamo anche altro, però con i dischi, con le canzoni di sottofondo. Senti, a te da bambino ti mascheravano a carnevale? Sì, sì, certo. Ti ricordi qualche costume? Sì, Zorro, Sandokan. Eh, già Sandokan, perché comunque noi facciamo questa domanda a tutti, perché in qualche modo pensiamo che quelle maschere ci hanno influenzato, già Sandokan non ci hanno mai detto, pure Sandokan. No, no, sei il primo Sandokan di Decore Podcast. Ci immaginiamo questo piccolo Britti. Vestito da Sandokan, ma era quando c'era il telefilm di Sandokan, in televisione, quindi tutti noi, io mi ricordo, ero terza, quarta elementare, e un sacco di bambini, cioè, c'erano le cose che andavano di moda e quando poi andavi a scuola mascherato, cioè, eravamo dieci Zorro e poi c'erano dodici Sandokan. Ma eri contento di essere vestito da Sandokan oppure un po' subito? Mi sembra di sì, non ricordo traumi, quindi mediamente devo essere abbastanza divertito da una cosa. Senti, ma... Ho smesso presto, però, ecco, se questo... Hanno smesso di mascherarti presto, cioè, nel senso... Hanno smesso di mascherarmi, sì, perché non mi volevo più mascherare, quindi... Quindi quelle cose, delle feste in maschera da adulti, dove te invitan ognuno se veste una cosa, non le fai, non le hai mai fatte? No, sono sempre la febbre all'ultimo, il raffreddore... Tipo festa a tema anni 70, festa a tema... No. Senti, tu ci hai parlato di Roma, è una derivazione di Roma Sud, ma che tipo di approccio c'è adesso alla città? Sei di quelli che dicono che la città è peggiorata tantissimo, di quelli che dicono che è sempre stata un casino? Cioè, qual è il tuo sentimento nei confronti di Roma di oggi, che è evidentemente complessa per una serie di motivi, no? Credi che sia un qualcosa che fa parte, è insita nello spirito della città e che ce la dobbiamo tenere così? Oppure sei di quelli che dicono che è peggiorato tutto, va sempre peggio, le istituzioni non ci aiutano, nel senso, qual è il... Come te la vivi? Bene? Me la vivo bene perché trovo Roma una città meravigliosa dove vivere... Poi ovviamente è sempre... ma questo non Roma, tutte le grandi città hanno sempre il grande problema del sociale, quindi i quartieri non sono tutti uguali, quindi capitare in un quartiere può essere migliore che capitare in un altro, no? Questo c'è sempre stato, meno male. Ogni periodo storico c'ha la sua criminalità, c'ha la sua movida e c'è il positivo e il negativo, insomma, come sempre. Oggi spesso penso che uno, soprattutto uno grande, no? Si lamenta sempre del nuovo che dice che è cambiato in peggio, ma perché semplicemente non si è abituato lui perché è cresciuto in un altro modo. Quindi se tu cresci studiando e parlando solo inglese, se arriva uno e parla tedesco è strano. E quindi oggi è così, credo, basta abituarsi alla Roma. Cioè i ragazzi di oggi che sono abituati a uscire nei giorni di oggi, non penso si lamentino, perché è la Roma che hanno trovato. Quindi io ho la Roma che ho trovato e non si può andare sempre con se stava meglio o se stava peggio o con le cose niente, insomma. Bisogna svegliarsi, rendersi conto che i tempi cambiano come giusto che sia e o ti adatti o se no rimani un po' così, diciamo, anacronistico, per non usare un termine più rincoglionito, insomma. Senti, ma facciamo questo gioco, tu ti svegli domani e sei sindaco di Roma e non ti puoi dimettere. Puoi fare una cosa e ti puoi dimettere. Non è mai che ho pensato subito a dimettermi. Perché purtroppo dopo le prime dieci puntate era la risposta. Eh sì, te la stavo già servendo. Perché tutti vogliono ancora, dicono, vabbè, io... È tipo un incubo, cioè il sindaco di Roma non te puoi dimettere, quindi... Beh, fare il sindaco in una città così grande comunque è difficile. Non penso che il sindaco di Parigi o di Milano anche, che non è grande come territorio, però è una città importante, o il sindaco di Londra viva una vita più serena rispetto a quella che può vivere un sindaco di Roma, insomma. Però come... Però che faresti? Cioè, la prima cosa... Anche una roba figa, che ne so, d'impatto. La prima cosa che mi viene in mente, non me ne voglio, non so, però farei lo stadio. Vabbè, ho sentito un lo sapevo. Lo sapevo. No, perché non lo nascondo, insomma. Cioè, mi piace seguire abbastanza, mediamente, il calcio e se la Roma avesse uno stadio suo non sarebbe male. Per tanti motivi, poi non voglio entrare in polemica. No, ma non mi sembra anche una roba assurda, cioè che poi uno fa uno stadio di una squadra nella città, insomma, che poi può essere anche usato per altre cose, quindi... Beh, sì, fai uno stadio è comunque uno spazio importante, puoi fare concerti, puoi fare un sacco di altre cose. Altri sport. Prenderessi pure un sacco di voti, perché se... cioè, pure dopo, se riesci a fare un stadio, sì. Vabbè, è un miracolo, quindi è impossibile, niente. Senti, quello che facciamo qui a Decore è anche chiedere a chi ci viene a trovare di portare una playlist Decore. E prima di ascoltare insieme un estratto di un brano che hai portato, prendiamo spunto, perché tu hai portato un grandissimo chitarrista, che sicuramente è stata una tua ispirazione, che è Steve Ravogan. Sì. E vogliamo fare un po' un'intervista anche diversa dalle solite di Decore, magari fare dei salti da una parte all'altra. Lui è uno che ha avuto anche una serie di chitarre, ognuna con un nome, perché tu, diciamo, sei un chitarrista incredibile. Ci parli velocemente di che rapporto hai con lo strumento? Io amo la chitarra, però la chitarra ce l'ho addosso, ce l'ho qua, nel cuore, non è l'oggetto fisico. Quello che dico sempre è che chi si innamora delle chitarre, poi sì, ti innamori della chitarra perché quella chitarra magari in quel periodo ti fa sentire bene, ti dà tutto quello che gli chiedi, quindi ti torna bene. Ma dico sempre che la chitarra è un pezzo di legno, con sei corde attaccate, una vale l'altra, tutte le chitarre sono belle, anche quelle brutte. Quindi non ho un particolare rapporto con una chitarra invece delle altre. Non ho... lo so che è poco romantico, uno si aspetta una risposta diversa. Però non ho nessun affetto per quasi nessuna chitarra. Sì, c'erano un paio che ho da quando ero ragazzino, ma infatti non le uso mai, stanno lì, le guardo. Non sei mai andato a dormire con la chitarra? Vado a dormire con la chitarra, ma non è che scelgo di andare a dormire, la invita a cena e gli faccio gli occhietti. Ma dormi con la chitarra spesso perché chi è malato come me spesso ti metti sul letto con la chitarra e suoni, no? Mentre ti guardi un po' di televisione o non lo so. E quindi a volte svieni, cioè crolli con la chitarra e quindi poi ti risvegli dopo qualche ora che c'hai la chitarra addosso. Ma sono andato... non sono andato... non mi sono addormentato con la chitarra oggetto, ma mi sono addormentato con quello che stavo suonando, con quello che avevo in testa di suonare e non con l'oggetto strumento che anzi dà pure noia perché vi dico, cioè che svegliarsi con una chitarra addosso che ti sta entrando la paletta qui o magari ti giri di notte e senti un botto che ti prende un colpo e scopri che hai buttato con la chitarra magari anche... Io che sono un mega fan dei videoclip, nel videoclip della vasca tu suoni la chitarra dentro la vasca da bagno. Sì. Quella chitarra era tua... che poi sono... cioè l'ho rivisto ultimamente apposta, sono due, ce n'è una gialla e un'arancione dopo. Ce ne sono tre, esattamente, c'è gialla, una mi sembra arancione o fucsia e una blu pure. No, quelle sono chitarre sacrificabili. Ma erano... cioè era roba tua oppure era scenografia? No, no, era pura scenografia. Cioè erano chitarre vere però molto economiche e mi servivano di quel colore e l'ho portate a un amico che fa il carrozziere, c'è il forno e me l'ha fatte lui nel forno della carrozzeria. Sì, infatti erano proprio un colore, se ci fai caso nel video, le chitarre sono tutte colorate. Cioè, di solito, la chitarra, se hai una chitarra rosa, c'ha la cassa rosa e poi però c'ha la tastiera, invece quelli hanno messo dentro, hanno vendiciato manico, corde, meccaniche. Vero, tutto un colore. E tutto nello stesso colore l'ha fatta un carrozziere, mio amico. E ce l'hai ancora, quei chitarre? No, no. Non sai se qualcuno, in qualche asta... Siamo quella, quelle mo' all'asta andrebbero proprio... Ma io quando faccio i video... Non sono feticista, non mi piace tenermi i ricordi miei. Magari quelli di altri sì. C'ho ancora un manifesto a casa di Sant'Ana, che lo strappai dal muro quando avevo 15 anni, sul Lungotevere. E quello ce l'ho ancora perché è il manifesto di Sant'Ana, ma le cose mie non mi piace averle in casa. Non c'ho foto, dischi, ricordi... Quindi quelle non ci avrà nessuno in giro? Trofei? No, di solito quando faccio delle cose, poi le cose riconoscibili le regalo. E quindi quelle chitarre le ho regalate, non mi ricordo a chi. Ma regalo un sacco di cose... Quale chitarre le hai regalate? Non lo so, no, non lo so. Sì, forse una, in cambio... Ma quando inizia tu l'avevi pagata? Però tu immaginate questo che se vede arrivai? Carrozzeria Alex Britti con tre chitarre, quattro... Che mei vernici! È una figata! Sì, sì, infatti era molto divertito anche lui. E quindi invece l'oggetto magari fa più piacere... Non lo so, la statua lì, il leoncino di quando ho vinto Sanremo, ce l'ha mia mamma. E lei piace tenerlo lì sul tavolo. Ah, ce l'ha a casa sul tavolo! Sì, un po' di trofei lo ho distribuiti tra appunto parenti. Mia madre, la maggior parte, poi parenti, amici. Quando vinco qualcosa, il premio, l'oggetto... Io non ce li ho, non mi piace tenerli. Tanto quel momento, quell'avvenimento ce l'ho dentro. Ti ho detto, me lo ricordo lo stesso. Quindi quell'altro è soltanto un oggetto. Io faccio questo di mestiere, capito? Non ho bisogno di queste cose. E questo vale per tutti, anche per gli altri? Quindi non collezioni dischi, non... Cioè, nel senso... No, no, degli altri sì. Per gli altri sì, perché ovviamente il disco o il concerto dell'artista famoso io non c'ero, no? E quindi mi piace avere... Sì, il disco o appunto magari... Io mi so conservato i biglietti dei concerti che mi andavo a vedere da adolescente. Andavo i concerti al Paleur, mi sono ottenuto il biglietto originale dell'epoca. Quindi c'ho il biglietto dei Polis, c'ho il biglietto di Santana e di Pino Daniele, c'ho il biglietto di un sacco di... Però pensai, magari Santana c'ha il biglietto tuo, capito? Difficile. Mi piacerebbe. Però a leggere il contrabbasso. No, a leggere il contrabbasso non funziona, siamo chitarristi, mi dispiace. Pino Daniele con cui poi lo vedevi probabilmente come un qualcuno che ti ispirava e poi ci hai avuto l'occasione di fare... Sì, ho avuto la fortuna di suonarci insieme, di conoscerlo e di suonarci insieme. Con lui come con anche tanti altri. Io ho iniziato a suonare, io lo rinfaccio sempre, a Edoardo Bennato, che ho iniziato a suonare la chitarra per colpa sua e non per merito. E lui si diverte, io lo dico sempre, perché poi nel frattempo siamo diventati amici, abbiamo fatto un tour insieme, abbiamo scritto insieme un sacco di canzoni. E ad esempio le cose di quando ho lavorato con Edoardo non ce le ho. Non c'ho neanche il disco, io non c'ho i miei dischi. A parte che non c'ho i dischi. C'è casa vota però, c'è proprio... No, no. Per fortuna ho tanti altri... Non sono concentrato su me stesso. Quindi per vedere le cose di me stesso basta che vada a uno specchio o a un vetro pulito. Invece le cose degli altri non ce le ho. Quindi c'ho casa vuota di cose mie. No, fa ride, hai fatto un merandillo. No, la casa vuota di cose mie, però appunto se devo mettere un poster in camera non mi viene di mettere una foto mia o un poster mio di un concerto. Io non voglio magari bruciare la... Io e Alessandro non si prepariamo mai domande, non sappiamo chi fa... E se vede. Però a proposito di collaborazioni, a me mi è rimasta impressa il concerto che hai fatto al Pavarotti & Friends, creavate questo trio fantastico, tu, Joe Cocker e Pavarotti. E' incredibile davvero. Però posso fare una domanda, non so se poi è magari rispettosa. Ma quando lì inizia a cantare Joe Cocker, tu suoni alla grande, c'è questa atmosfera incredibile, e poi parte a cantare Pavarotti. Ma non vi veniva da ride un po', perché... Perché quando parte a cantare... Perché in quel contesto, Pavarotti quando canta, fa tanto Aldo, Giovanni e Giacomo, non so, i tre tenori, era veramente una roba che si vedeva solo lì. Quindi quando stavi sul palco, che sensazioni avevi? Ma lì ovviamente entravi da quando arrivavi in città, lì a Modena, qualche giorno prima, le prove e tutto, entravi in una dimensione veramente speciale, perché Luciano era uno che, cantando la lirica in giro per il mondo, ha portato anche l'Italia in giro per il mondo, quindi tutti quelli che tornavano, cioè che venivano poi ospiti al festival, erano stati in qualche modo in contatto con lui. E c'era una stima molto più grande di quella che potevamo provare noi italiani. Che infatti arrivava qualsiasi tipo di ospite, cioè... E quindi no, anzi, quando entrava lui, anche se sembrava una cosa che magari discostasse da quello che stavamo suonando, invece no, perché arrivava... A parte che sul palco, cioè quando lui apriva la bocca, arrivava proprio una carica emozionale, non soltanto a livello tecnico, perché ha preso delle note alte, ha fatto dei virtuosismi con la voce, ma arrivava proprio una cosa forte a livello umano, che non ti faceva pensare a null'altro che la canzone, che la musica, che l'arte. E quindi erano due mondi. A noi ci fa sorridere, siamo sempre noi in... L'Italia culturalmente è stata sempre un po' una colonia, principalmente degli Stati Uniti e poi di tante altre parti del mondo. E tendiamo sempre a predilire quello che succede all'estero, noi in altri paesi. Quindi abbiamo come un po' di imbarazzo con le nostre radici, con la nostra cultura. Io me ne accorgo, ti faccio un altro esempio, a me piace, soprattutto in certe mattine, cioè deve essere di mattina quando cucino, spesso la domenica se c'è gente a pranzo. Quando io cucino, cucino con la musica e mi metto un sacco di roba, sono veramente onnivoro, mangio qualsiasi tipo di musica. Ho detto mangio? Sì, ascolto, volevo dire. Ascolto qualsiasi tipo di musica, basta che sia suonata bene. E soprattutto quando cucino e soprattutto magari la domenica mattina, quando stai in quella modalità così festaiola, mi piace mettermi le canzoni romane. E quindi mi metto le mie playlist di Lando I Fiorini, Claudio Villa. E se c'è qualche amico che arriva magari prima e sente che sto ascoltando le canzoni romane, si mette a ridere e mi dice, ma che testa senti, ma senti sta roba. E quella è la nostra tradizione. Non deve venire da sorridere. Devi entrarci dentro, devi sapere perché hanno scritto quei testi. Quindi ti fai dei voli pindarici a cercare di capire com'era la società all'inizio del Novecento, quando hanno scritto quelle canzoni, perché scrivono quel tipo di testi. Spesso nei testi ci hanno nascosti dei messaggi che una volta non potevi scrivere qualsiasi cosa. Oggi vale tutto, puoi insultare chiunque, puoi fare qualsiasi cosa. Invece all'epoca c'era la censura, dovevi stare dentro alcuni binari. E quindi è affascinante. È affascinante la nostra tradizione, il nostro passato, come è affascinante la tradizione degli Stati Uniti. Infatti io amo il blues, che è musica tradizionale, musica popolare. Però appunto, tornando al Pavarotti and Friends, il Pavarotti and Friends, entravi in un clima internazionale. E quindi quando entrava Luciano che cantava sentivi soltanto tutta la potenza, l'energia e lo spessore così profondo, così proprio che lo potevi quasi toccare. E che non ti faceva pensare a null'altro che a quanto era grosso questo artista. Però poter partecipare era veramente un... Prima parlavamo di premi materiali. Quello era veramente un premio... Il fatto di starci era già un premio incredibile. Solo che quella... Io quell'anno non feci il duetto con Luciano. Proprio per questo, perché quando mi hanno chiesto... Poi ero tornato appena in Italia, cantavo da poco. Quindi non mi sentivo così esperto nel stare su un palco davanti a tutta quella gente, in mondo visione e cantare insieme a Luciano. E quindi quando mi hanno detto, beh dai scendiamo un pezzo così canti insieme a Pavarotti, io ho detto, no no, io non ce vengo. Mi vergognavo, non mi sentivo all'altezza. Ho detto se devo fare... Quindi avevi scelto tu di suonare e basta? No, ho detto guarda io non me la sento, non me la sento, cioè non mi va di fare figuracce davanti a tutte quelle persone. E quindi poi mi ho detto se devo suonare va bene, io ho buttato là, no? Se devo suonare va bene e quindi poi qualche giorno dopo mi hanno detto guarda c'è Joe Cocker che farà un brano... Così, guarda, c'è sta Joe Cocker. Eh ma lì era tutto così, eh? Cioè lì dove ti giravi c'era... Una mattina facemmo colazione insieme con le prove. Erano le prove dentro una stanza grossa, dentro un albergo ed erano le prove però non con l'orchestra, era soltanto, di solito chiamavano le prove al pianoforte, che in quel caso era però con la chitarra, quindi non c'era il pianista ma c'ero io che accompagnavo loro due. E poi vabbè ognuno c'aveva i propri accompagnatori, però eravamo proprio poca gente e a un certo punto entra, ci dice Luciano guarda passa un amico, viene a trovarci, voleva sentire, è quello che controlla un po' come cantiamo, come suoniamo e entra col cappellino, non lo vedo, non lo ricolosco, si mette seduto, chiacchieriamo, facciamo colazione, c'era una tavola piena di prosciutto, salame, eravamo a Modena lì in casa sua, cominciamo a mangiare e mentre mangiamo mi accorgo che era Lionel Ricci, per dire. E poi dice, arriva un assistente di Luciano e dice, mi dispiace che facciamo un po' di backstage mentre facciamo le prove, gli faccio no, figure, poi voglio dire, sto con Luciano Pavarotti e Joe Coger, dà fastidio a me quello che fanno. Eh non lo so, guarda. Per educazione, comunque me l'hanno chiesto, io ho detto no no, assolutamente, così, quindi entra questo ragazzo che comincia con una mini tv, digitalina di quelle che andavano in quegli anni, comincia a fare le riprese e era Spike Lee. Quindi lì, quando stavi in quel contesto, esatto, cioè pure, non so. E il parcheggiatore, era Schillaci, che ne so. Sì, capito. La mostra di una roba così. Ti venivano a prendere con la macchina, c'era Mansell che ti venivano a portare. Era tutto così, dovunque ti giravi c'erano questi personaggi incredibili e poi ovviamente c'erano anche gli invitati e quindi oltre ai partecipanti poi ti ritrovavi al ristorante, a cena con calciatori, con personaggi importanti, c'era Gloria Estefan, quell'anno, mi ricordo che non era ospite però era accanto a me a mangiare, c'era Peruzzi, il portiere. Era una leva prenotato Peruzzi, pur per tutti c'erano. Era pieno, tu andavi lì, incontravi un sacco di personaggi importanti e quindi era normale avere, non è che mi hanno chiesto Joe Cocker, tanto se non era Joe Cocker era BB King o c'era Ricky Martin, Mariah Carey, un sacco di personaggi così. Quindi mi chiesero, allora se vuoi, non vuoi cantare ma ti va di suonare per loro? Io ho detto sì sì, suonare va benissimo, infatti facciamo tra l'altro una canzone, You Are So Beautiful, che è una canzone che ha scritto Billy Preston, con il quale io ci avevo pure lavorato, quindi conoscevo già bene il pezzo, oltre a conoscerlo come fan di Joe Cocker, l'avevo suonato un sacco di volte con Billy dal vivo e quindi l'ho accettato subito ed era importante perché era un brano che non aveva ritmica, quindi non c'è la ritmica e tu ci suoni sopra, ma era un brano che era soltanto chitarra che accompagnava quella chitarra acustica e poi entrava l'orchestra, quindi tu ci avevi sulle spalle, ti devi portare dietro, devi stare a tempo e portarti dietro tutta l'orchestra e più Luciano e Joe che cantavano, quindi era una bella responsabilità, infatti mi disse, ma che sei matto, preferisci fare una cosa del genere piuttosto che cantare quattro righe, ho fatto sì sì sì, no io non canto con Luciano, e quindi poi facevamo l'esibizione, l'esibizione è andata benissimo. Senti, ma di incontri incredibili ne hai avuti diversi, anche quello con Ray Charles, immagino sia stato, cioè averlo così e suonare insieme a lui, immagino sia stata una cosa per te forte? Sì, confermo, sì fortissimo, non so come spiegare queste cose, perché quando tu passi tanti anni, quando sei ragazzino con i dischi a casa, in cameretto, no, e ti senti dischi, cassette e poi adesso, cioè non è come adesso, adesso uno vuole, dici voglio vedere che cosa ha fatto Ray Charles, vai su Spotify, tra Spotify e YouTube trovi tutti i dischi, i concerti, una volta per trovare i dischi ti dovevi sbattere, e quindi costavano, quindi dovevi trovare qualcuno che te li prestasse, registrarli, e poi una volta se rimettiavi un disco, che poi neanche si trovavano tanto facilmente, perché i dischi pop erano distribuiti, i dischi di blues non tanto, quindi dovevi andare in pochi negozi che c'erano a Roma, che c'erano i dischi di importazione, si chiamavano, che erano i dischi al di fuori della grande distribuzione, e quindi poi una volta che trovavi un disco blues, uno si comprava il disco e 500 amici si registravano la cassetta, quindi c'erano queste cassette che le conoscevi bene, cioè non c'avevi, adesso chiunque di noi ha sul telefono, tipo io ho sei mesi in interrotti di musica non stop, però ne conosci pochi, poi alla fine ascolti sempre quelle canzoni, oppure vanno rando, ma che alla fine ti sembra una radio, mentre invece io c'erano i dischi, c'erano un disco di Santana, un disco di Stevie Ray Vaughan, conoscevo perfettamente il disco, sapevo anche dove stava il rumore della puntina del giradischi che saltava, cioè conoscevi bene tutto, sapevi a memoria tutti i brani, tutto, quindi quando dicevi conosco quell'artista vuol dire che lo conoscevi bene, e la sensazione che ricordo più forte di Ray Charles è quando il palco, di solito chi suona lo sa, il palco c'è il suono dei monitor, che è un suono diverso, non è il suono così bello, raffinato che c'hai davanti, davanti c'è il fonico che ti missa, sul palco c'hai un fonico che dà una missata, non è che è missa, e senti sempre un po' così, e c'è il suono dei monitor, quindi io mi ricordo il ricordo della prima volta che senti un accordo di pianoforte e hai iniziato a cantare, e l'ho sentito dal palco che veniva dai monitor, col tipico suono dei monitor da palco, mi ha preso un colpo, ho sentito la voce sul palco, non lo so, una sensazione che ti resetta, ho fatto un salto di 5-7 secondi di blackout, di tilt totale, poi sono rientrato e ho suonato, e bene pure, dicono bene insomma, sono sensazioni strane, particolari, fortissime, forti, 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 ma proprio perché c'è tanto amore dietro quello che faccio, magari tanti si arrapano di più se va a un disco in classifica o cose del genere, e quello sì, però lì sono soddisfazioni professionali di lavoro, è diverso, alcuni che ho incontrato, tra cui forse Ray Charles è quello che mi ha dato proprio la botta più forte dal punto di vista emozionale, è questo, il fatto di sentirlo col suono del palco, che quindi vuol dire che ci stai insieme, e c'è qualcosa che non quadra, poi invece quando capisci che ci stai e dici che quadri, e allora diventa meraviglioso, apri il cuore, la pancia, la testa, non lo so, e vai a ruota libera, e ti lascia andare. Primo brano della playlist Decore di Alex Britti, ce ne sentiamo insieme un pezzetto, l'abbiamo nominato più volte, è Steve Ray Vaughan, ti visto che purtroppo per poi questioni di diritti dobbiamo tagliare i brani, sia da Spotify che da YouTube, in molti ci chiedono ma che brani passate, quindi ti va di annunciarlo te il brano che abbiamo appena sentito? Questo era Cold Shot, di Steve Ray Vaughan. Perché in tutta la sua produzione questo ti ricorda una cosa specifica, oppure... Sì, sì, perché è la prima canzone di Steve Ray Vaughan che ho sentito, la beccaia di pomeriggio, ero ragazzino, mentre facevo merenda, e c'era video music all'epoca, che passava i brani, e io sentivi questo brano poi come partì, sentivi questa chitarra che non conoscevo, rimasi veramente colpito, e poi il video era particolare, soprattutto poi con un ragazzino, perché era lui che era, stava sempre a suonare la chitarra, e c'era una fidanzata che si incazzava perché... perché lui suonava sempre la chitarra e la trascurava, ed era di molto divertente, perché per un ragazzino, uno che fa così, che suona sempre, ignora tutto e suona, è un supereroe con la chitarra, no? E quindi c'era questo video che c'era questa donna che si metteva poi in versione, tutte si vestivano un po' sexy, così andava a cercare di stimolarlo, e lui continuava a suonare, e allora poi lei si incazzava, gli prendeva la chitarra e la buttava, e lui che stava su un divano, faceva questa mossa così, tirava fuori un'altra chitarra, uguale o simile, e continuava a suonare, e lei gliela toglieva, gliela buttava, e lui ne prendeva un'altra, e poi tutto il video fa sempre cose a tema, tipo che è il compleanno di lei, e lui gli fa la torta a forma di chitarra, e lei si incazza, e poi un'altra ricorrenza, non so cos'era, forse è un anniversario, gli regala un ciondolo, una collalina d'oro col ciondolo, sempre a forma di strato castere, a forma di chitarra, e lei si incazza, fino a che non mi ricordo se era per la torta o per il ciondolo, stanno pranzando su una terrazza, lei si incazza e lo butta di sotto, e lo butta di sotto, arriva l'ambulanza, lo portano in ospedale, e lui sta sul letto d'ospedale morente, sai quella specie di schermo che c'è la linea verde che poi quando è piatta, vuol dire che il paziente è andato, praticamente si vede la scena finale con lei che corre con la chitarra elettrica nel corridoio dell'ospedale, lui che sta lì per morire, la linea encefalogramma, quella lì che arriva piatta, però arriva lei proprio all'ultimo secondo, io infilo il jack della chitarra nell'avambraccio in endovena, lui si riprende e fa il finale con la chitarra, quindi bellissimo, e in stanza con lui c'era il bassista e il batterista che suonava. Ma si, si trova ancora a sto video? Si, sta su YouTube, Cold Shot si chiama. All'epoca già suonavi? Quando hai visto questo video? Si, a voglia, a voglia, suonavo già da parecchi anni, facevo già i concertini in giro, però avevo cominciato a cambiare perché mi ero preso la chitarra elettrica da poco, da un annetto, un anno e mezzo, e mi piaceva Santana tantissimo, avevo scoperto che si poteva cantare con la chitarra, io la vedevo così, prima la chitarra l'ho iniziata a suonare perché mi accompagnavo per cantarci, poi invece ho scoperto che Santana per me cantava con la chitarra, che erano gli assoli, quindi iniziai anch'io a cantare con la chitarra, fino a che poi ho conosciuto Stevie Ramon. Video Music metteva, che era questa emittente, per chi non la ricorda, italianissima, prima di NTV, prima di un sacco di altri canali che sono arrivati, che metteva la canzone e poi a fine canzone appariva il nome dell'artista e il titolo della canzone. Quando passò Stevie Ramon io mi aspettai la scritta e mi scrissi il nome e il titolo e andai subito lì vicino casa da un negozio che si chiamava Revolver, che vendeva i dischi e mi andai a comprare il disco, anzi andai a cambiare i dischi perché i negozi di dischi se tu gli portavi 3-4 dischi usati te ne davano uno nuovo in cambio, quindi io andrai a prendere i dischi che c'erano. Non ti ricordi che dischi gli avevi portato in campo? Cioè cosa avevi scartato? Non mi ricordo di preciso però erano i dischi di mio padre. Ah quindi? Sì, tanto lui... Che ancora cerca ancora... No, 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 però non se ne accorgeva perché poi tanto non sentiva la musica a casa, se li registrava le sentiva in macchina quindi c'aveva la cassetta. Però tu li prendevi a caso, non sapevi... Cercavo di andare a prendere quelli che sapevo che non si sarebbe troppo incazzato una volta scoperto e poi insomma andai giù da Revolver, feci questo baratto, presi il disco di Stevie Ramon mi chiusi in casa per imparare il disco a memoria, mi sono imparato tutto il disco in qualche mese, ci ho messo e poi tornai, ho scoperto che quello era il secondo disco di Stevie Ramon e in realtà due anni prima ne aveva fatto un altro che si chiamava Texas Flute e andai a comprare anche quello, imparai tutto quel disco a memoria e decidi di fare un trio blues e suonare blues, suonare blues anch'io e quindi poi io l'ho fatto, ho iniziato, ho fatto un trio di blues e iniziai a suonare quasi subito, iniziai a suonare al Big Mama di Roma un club che stava a Trastevere, quindi sempre tutto lì vicino casa, ci andavo a piedi e iniziai a suonare, iniziai a frequentare il Big Mama suonando con questo trio, poi ero diventato il chitarrista di Roberto Ciotti che è stato il chitarrista più forte blues che c'è mai stato in Italia secondo me e quindi poi ho iniziato a suonare, a girare, a suonare nei club. Quando poi hai fatto i grandi palchi e ti sei trovato in situazioni molto più diciamo grosse, in cui hai tanti tecnici, in cui si sente bene, in cui stai con l'iniare, in cui in qualche modo ti mancava un po' la dimensione del club piccolo, quella cosa del bluesman, del locale fumoso, cioè quella sensazione lì, in quelle situazioni là ti mancava e ti manca, poi magari adesso la recuperi, la puoi fare, è bello fare delle cose, no? Però, ma un po' sì, un po' no, cioè nel senso che ero molto appagato dal mio lavoro quando ho cominciato a stare sui palchi più grossi, però mi sono portato sempre un po' di locali anche sui palchi grossi, nel senso comunque io ho sempre suonato anche troppo la chitarra, detta di molti, che magari vengono ai concerti per ascoltare soltanto le canzoni e poi invece si trovano due ore di assoli di chitarra e che due palle, no? Che mi dicono così, però quello è il pubblico più pop, quindi lo sa, sa, diciamo, il mio pubblico che preferisce le cose più pop, sa che si deve comunque sorbire un sacco di chitarrismo, un sacco di virtuosismi, così come chi viene invece per sentire il virtuosismo sa che comunque si deve sentire anche un po' di repertorio pop e alla fine però mi sembra che fanno amicizia tutti, insomma, vanno via contenti, sono create coppie, hanno fatto i figli, queste cose mi ricordo anche quando nei contesti più mainstream tu portavi le cose da solo con la loop station, che era una cosa che diciamo in quei contesti là non si era mai vista, sembrava una cosa, un alieno, e proprio le persone tecnicamente, ma che sta a fare questo, chi è che sta a suonare e invece te con la loop station... Perché la loop station era stata appena inventata, cioè anch'io l'avevo stata scoperta per caso in un negozio, mi è venuto subito in mente di usarla in un modo diverso da come si usa di solito la loop station, pensandola da produttore e non solo da chitarrista, quindi tu in studio quando registri gli strumenti vai sempre a pulire le frequenze sporche che c'ha ogni strumento, che quando lo senti da solo è bellissimo, ma quando suonano dieci strumenti insieme se togli le sporcizie del singolo strumento è meglio. Con questa concezione io lo facevo prima, avevo nella pedaliera una serie di EQ, di equalizzatori, con i quali mi andavo a scavare i suoni, invece di farlo dopo registrati, col mixer lo facevo prima di registrarli, quindi se dovevo fare, non so, la cassa della batteria gonfiavo, il rullante col guagua spingevo sulle medie, poi avevo una serie di equalizzatori che tagliavano sotto per fare le percussioni, quindi mi sistemavo, più un po' di pedali così mi preparavo le basi e poi ci suonavo sopra. ed era divertente però, a me piaceva un sacco, anche lì mi riportavo il mondo dei club, il mondo del blues, del jazz, della sperimentazione, però quell'anno con la pedaliera che era il 2003, sono vent'anni madonna, quell'anno io mi portai la pedaliera e andavo a suonare dal vivo con la pedaliera, l'ho fatto, non so, al Costanzo Show un sacco di volte, a Domenica Inn, l'ho fatto al Festival Bar durante tutta l'estate, tutto l'età io volevo suonare solo dal vivo, quindi ero un po' decoccio, un po' capriccioso, nel senso che non facevo i capricci da VIP, ma facevo i capricci da musicisti. Quindi tu al Festival Bar non suonavi in playback? No, abbiamo avuto qualche ospite che ci ha detto che erano quasi obbligati a suonare o comunque a cantare in playback? Sì, sì, certo, però poi non è che ti obbligano, se poi una cosa non ti va di farla non la fai, quindi io insistetti perché volevo suonare per forza dal vivo e alla fine mi hanno fatto... Quindi tu prima e dopo di te immagino che partivano sti playback con i trementi, invece tu suonavi... Sì, ma perché facevo comunque un'altra cosa, cioè non puoi... se fai il Festival Bar ad esempio era una cosa estiva, quindi c'erano un sacco di quelli che oggi si chiamano i tormentoni estivi, sono costruiti in un certo modo ed è giusto che vengono suonati in un certo modo, se vai lì e li fai con la chitarrina non succede niente, quindi è giusto che hanno le basi o che fanno il play, poi io non critico mai gli altri, ognuno fa il cazzo che gli pare, a me piace suonare dal vivo, a quello piace suonare nel playback, io non giudico lui, lui non giudica me. Mi spiace interrompere questo momento perché sono le grandi domande di Danilo da Fiumicino che vengono anticipate dal tasto, ci vuole l'applauso giusto Alessandro? Il suono del tasto di Danilo? No, no preventivamente. Prima il suono, è facile regà, prima il suono e poi l'applauso. L'abbiamo sperimentato nelle puntate precedenti, è una cosa che è bellissima. Con altri pubblici funzionava, ma non so. Funziona pure con loro. La domanda che ho che è importante, secondo te perché le supposte le fanno solamente con una parte temperata e no con tutte e due? Che gli costa temperare tutte e due i lati? Perché io mi immagino, è tanto che non uso le supposte, però metti in caso te la metti di notte, al buio, che ne so. Se hai tutte e due i lati temperati io lo trovo più facile. Non lo so, non mi sono mai fatto certe domande, non sono mai stato un grande fan della materia, insomma. Quando posso prendo lo sciroppo. Però secondo me è una bella domanda, Alessandro. Ma sai che ho servito invece? Hai fatto finta di niente. Ci sono delle volte che metti molto in difficoltà anche me, devo dire che questa è una di quelle, nel senso che... Secondo te perché Alessandro? No, forse per risparmiare il processo produttivo, immagino. C'hanno un solo temperino, potrebbero... C'ho un'altra domanda. È più interessante. In parecchi videoclip, in un due, tre... S'ho fissato con i videoclip io. Ho visto che torna spesso la Fiat Panda. Cioè, in più di uno tu arrivi con questa Fiat Panda. Perché? Cioè, era la tua macchina? Oppure... Era la mia... C'erano avute... No, no, sicuro. Eri sponsor Fiat. No, era la tua macchina. Non quella del videoclip, perché il videoclip era... Il videoclip in quel caso... Io mi ricordo uno che era girato a Bologna e portarmi la Panda da Roma a Bologna. Non ci sarei mai... Non ci sarei arrivato. Sono sicuro su due, però poi... Probabile, perché c'avevo la Panda, mi piaceva un sacco. Sono rimasto malissimo quando... Il pandino quello vecchio, no? C'era avuto più di uno, c'era avuto un po'. Sette e cinque. C'era avuto almeno uno rosso e un paio beige. E poi non l'hanno più fatta e ho rosicato. Mi piaceva un sacco che la macchina. Quindi era una tua richiesta, diciamo. C'ho viaggiato, c'ho dormito, c'ho fatto qualsiasi cosa, ovviamente, da giovane, no? Pure da più grande. Ma... Insomma, era una macchina a cui ero molto affezionato. E poi ce l'avevo sempre avuta e ho continuato ad avere sempre quella macchina. Un po' mi faceva comodo e un po' mi divertiva, anche. Perché poi quel periodo lì, quando ero primo in classifica dappertutto, mi sarei dovuto comportare da VIP, da personaggio. E quindi mi invece, quando mi aspettavano che arrivavo alle cose che dovevo fare, ma sia alle ospitate o ai concerti, con le cose istituzionali, io arrivavo con la Panda ed era sempre un momento un po'... Spiazzavi tutti. Sì, una volta sono arrivato la mattina presto all'Euro, al Palazzo dei Congressi, dovevo fare una conferenza stampa di un'iniziativa che avevamo fatto con il Ministero delle Pari Opportunità, con il Ministro Lidia Turco. Quindi c'era il Presidente della Repubblica, che all'epoca c'era Ciampi. Insomma, c'erano tutte autorità. E io ero l'ospite perché avevo fatto una canzone che era la canzone per la campagna contro il lavoro minorile. Quindi io ero l'ospite musicale. E non mi hanno fatto entrare. Non mi hanno fatto entrare. Perché sono arrivato con la Panda, vestito sempre, insomma, ero l'unico non in giacca e cravatta, io e il fonico peggio di me. E non ci hanno fatto entrare. E sono stati un sacco di tempo di dire, guarda, io sono Alex Britti. Sì, io sono Baglioni. Sai, no? E alla fine dovremmo andare via e dovremmo andare a chiamare lo staff, il manager che ci sono venuti a prendere. Poi siamo entrati a piedi. Con una macchina meglio. Ah no, a piedi. No, siamo entrati a piedi, mi hanno portato una camicia e poi dopo mi hanno fatto entrare. Però abbiamo perso un sacco di tempo e arrivai tardissimo. Ma in realtà io stavo là solo per questi non mi avevano entrare. Quindi, però questa cosa, per quanto fosse un problema, no? È stato quasi un guaglio perché stavo per arrivare tardi. Però poi dentro di me mi divertivano queste cose, no? Cioè, ero un po' stronzetto che gli piacevo fare. Questi, non scherzi, insomma, però mi piaceva creare questi siparietti così divertenti. E quindi ho continuato a girare con la Panda per tanti anni. Quindi tu ti puoi immaginare, magari c'hai una... sei una ragazza, prenoti nel ristorante più buono, alla moda della città, che ti aspettano questi che ti prendono la macchina da fuori, in un grand hotel, così. E a me divertiva moltissimo arrivare con la Panda tutta scassata, col cacciavile nel finestrino. Poi quando hai cambiato macchina, dicevo non ho... Non c'ho ancora la Panda. No, scherzo, non c'ho la. No, quando hai cambiato macchina... Quando hai cambiato macchina non ti facevano entrare lo stesso perché dicevano no, no, Alex Britti c'ha la Panda. Così ti impari a fa' quella... Sì, ma anche adesso c'ho una city car con cui giro. C'ho due macchine, una che ci lavoro e una che ci giro. E quella che ci giro è una macchina che anche adesso, se vado dei posti, non mi fanno entrare. Insomma, poi adesso pure per altri motivi, però... Senti, tu te li vai a leggere i commenti sotto i tuoi video di YouTube, le cose che scrivono le persone? Che rapporto c'ha? Anche, ne so, sui social, se è uno che si interessa di quando esce un brano andare a vedere le cose, i commenti, positivi o negativi che siano? No, non tanto. Prima sì, i primi tempi sì. Poi oggi il web è un territorio un po' strano, no? C'è un sacco di gente che... Cioè, qualsiasi cosa fai, c'è sempre qualcuno a cui non sta bene e cominciano subito neanche a parlarne o a cercare di fare una critica, che la critica può essere costruttiva, no? Invece un sacco di gente comincia subito, vedi... non è me, un po' tutti, no? Cominciano subito a offender. Ci stanno, come si chiama, gli haters, i leoni da Tastiera, tutti questi qua. E quindi è un territorio, è un sottobosco culturale che non mi interessa più. Cioè, i primi tempi era un po' più reale. C'è sempre poi la doppia e tripla lettura su una cosa che... No, ma oggi anche qualsiasi cosa fai. Cioè, se c'è un bambino che affoga tutti i tuffi e lo salvi in mezzo a rime, c'è qualcuno che scrive se hai un pezzo di merda, lui ha diritto di morire come tutti. Cioè, te fanno... qualsiasi cosa fai, c'è sempre qualcuno per cui sei uno stronzo e hai sbagliato. Quindi non è più attendibile. La critica è costruttiva, la critica, soprattutto a noi artisti, serve a migliorarci o comunque a farci riflettere. Perché se tutti ti dicono che qualsiasi cosa fai è sempre bella e fantastica, tu non migliori. Invece, se c'è una critica di qualcuno che ti dice una cosa che obiettivamente puoi migliorare, ben venga. Ma quando sono soltanto cose, boh, un po' superficiali, spesso i commenti sono scritti da persone che neanche seguono a fondo quello che stai dicendo, ma soltanto perché magari hanno un'urgenza di sfogarsi, non so per quale motivo. Quindi i primi tempi, i primi anni di YouTube, dei social, sì, me lo andavo a guardare. Adesso è parecchio... Sono andato a prendere i commenti più votati di un paio di tuoi video storici. Cioè, la gente commenta poi, la gente mette mi piace al commento e va per primo quello più votato, cioè quello che... Pensavo che eri andato a cercare gli ether, tu, no? No, no, sono tutte e due commenti belli. Sotto solo una volta c'è una ragazza che scrive meravigliosa, da piccola la cantavo continuamente, oggi ho 19 anni e un maggior bagaglio di esperienze ed emozioni che mi permettono di amarla ancora di più. Sto studiando per diventare musicista e spero in futuro di poter regalare alla gente sfumature di vita vera così come questi artisti hanno sempre fatto con me. E questo è il commento più votato. Bello. È molto bello e mi viene da chiederti, ti capiterà solitamente, ti ferma gente e ti dice, lo dai un consiglio a uno che vuole iniziare a suonare, a uno che suona, una cosa che hai capito in tanti anni di carriera, una cosa che te senti, te di... Perché almeno questo è quello che mi ha ispirato sta ragazza nel leggere questa cosa. Sì, guarda, e mi leggo anche col fatto dei social, quello che abbiamo detto adesso, che comunque il social è sempre tutto un po' effimero, perché qualsiasi cosa tu faccia la puoi sempre comunque aggiustare, no? Guarda una foto, quante persone, ragazzi e ragazze vedi la foto, le varie foto sui social, sembrano tutti i modelli e modelle, poi l'incontro di persone non sono modelli per niente. E questo c'è anche nella musica, perché oggi con qualche banale app dal telefonino tu ti puoi aggiustare come canti, come suoni, di sistemi, quindi dico di... a chi suona, dico di frequentare meno i social e più le sale prove, i club dove c'è la musica dal vivo, ma come lo dico anche a chi si frequenta, cioè a chi si frequenta, che si conosce perché si mette i like, quelle storie lì, non lo so, è tutto un po' finto ed è più bello quando incontri una persona, una ragazza, è più bello, è più interessante, c'è più pathos nel farlo di persona. Poi sicuramente io ho un'età che ho un vissuto più legato appunto all'incontro umano piuttosto che al web, per quanto l'ho visto nascere il web, quindi l'ho usato e lo uso ancora tantissimo. Però ecco, dico un po' in generale di staccarsi dal mondo virtuale e tornare un po' più sul mondo vero, perché poi nella musica c'hai nel virtuale tutti i fenomeni, poi vai in un club dove non c'hai modo per taroccare, c'hai un amplificatore, una chitarra, un microfono e devi suonare. E lì cascano un po' tutti, e lì crollano un po' tutti. Senti cantanti stonati, gente che non va a tempo. Il concetto del tempo oggi sono tutti attaccati al click, tutti attaccati ai loop, a un computer, quindi il fatto di andare a tempo naturalmente è diventato quasi una cosa superflua. E quindi dico a chi vuole suonare, dico di amare la musica, perché se scrivi una canzone devi essere contento di averla scritta perché devi piacere a te e non perché ti hanno messo tot like su Instagram o su TikTok o qualcosa del genere. Quindi ecco, di amare quello che fai e non quello che rappresenta. Un altro commento che ho pescato, e poi ti prometto che è l'ultimo, è Preso da Oggi sono io, che dice, ho fatto ascoltare questa canzone ad una ragazza che non c'è stava, e dice niente, ha continuato a non starci, ma la canzone le è piaciuta. A parte che mi ha fatto molto ridere questo commento. Ci dà lo spunto, ce lo dici, come ti vivi se per te è un ricordo di core, il discorso di come è arrivata Mina questa canzone qui. Per noi è una cosa enorme, il pensiero, così come hai raccontato tra i charts, il pensiero che ci possa essere stata un'esperienza di quel tipo con Mina, poi te come l'hai vissuta? L'ho vissuta in un modo strano, sembra quasi uno scherzo, perché quando ricevetti la prima telefonata dal figlio di Mina, da Massimiliano, ricevetti questa telefonata dove praticamente lui mi chiedeva il permesso, dove Mina mi chiedeva il permesso attraverso lui di poter cantare questa canzone. E tecnicamente non serve il permesso, perché proprio legalmente se chiunque vuole fare una cover e registrarla in un disco può farla senza il permesso dell'autore, quindi era una richiesta un po', era un eccesso di gentilezza e carineria che non mi aspettavo. E invece mi aspettavo un'altra cosa, perché in quegli anni c'era Scherzi a parte, che andava fortissimo, che era proprio nel momento più... E io ero convinto fosse uno scherzo, che mi stavano mettendo in mezzo per fare lo scherzo. Poi c'avevo chi lavorava con me che mi diceva, ma no, ma quello è scherzo, questo è veramente mine. Però quando ti vedi scherzi a parte, c'hanno sempre l'amico che è il più infame di tutti, che gli dice sempre... E quindi io facevo, sì, sì, vabbè, sì, che vuoi la canzone, sì, sì, suona... Sono rimasto insomma un po' così, un po' agilo, un po' distaccato, quando poi invece giorni dopo ho capito che era vero tramite amici, addetti ai lavori e lì... Quindi lì ho pensato, madonna che figura di merda che faccio, e ho richiamato, ho riapprociato, mi sono avvicinato e poi l'abbiamo fatta. E lì sono stato contento, perché quando c'è stato il primo approccio non ero entrato. E hai parlato direttamente con lei oppure... Sì, poi dopo sì anche, tanto un po' di volte sempre con Massimiliano, che li fa da manager, da produttore, e poi ho parlato un po' di volte con lei. Senti, secondo brano de core della tua playlist è un brano italiano, ti va di annunciarlo? La Donna Cannone di De Gregori. Perché è un brano de core per te? Perché mi ricordo perfettamente quando uscì, mi ricordo perfettamente. Era uscito l'album che ho consumato, che è Titanic, l'album di De Gregori, che mi piaceva perché poi c'era... Tutto l'album è bellissimo, però c'era una canzone che si chiama Leva Calcistica, la classe del 68, che parla di un ragazzino di 13 anni. Cavo lavoro. Io sono del 68, avevo 13 anni quell'anno e quindi mi aveva preso particolarmente. Quindi suonavo dietro, avevo imparato tutto quel disco e mentre c'era quel disco uscì un film, non so in quanti se lo ricordano, c'era da poco il video... C'era stato inventato, o perlomeno girava per le case da poco, il videoregistratore e si trovavano i VHS Tarocchi, pirata ovviamente, con i film, con i film quelli in prima visione al cinema. Che tante volte non c'era proprio il film dentro, c'era pure... ci trovavi pure altro, a me un paio di volte mi era capitato. Ah sì, eh? Sì, sì. Per sbaglio. No, a me purtroppo a me. Poi ero contento. E no, e mi ricordo, mio papà portava questi film a casa, i film poi si vedevano malissimo, non schifo, però all'epoca era talmente una novità che eravamo tutti esultati. E portò un film a casa che si chiamava Flirt, un film francese. C'era Monica Vitti, ma era una produzione francese. E c'era questa canzone, la donna che non è stata scritta per il film, poi dopo ha fatto successo. Non era neanche uscita come canzone all'inizio, ma era uscita soltanto con questo film. Che io sentì appunto questa canzone, un po' c'aveva tutta questa atmosfera il film, tutta la musica l'aveva fatta Francesco e quindi poi invece cercai, uscì il disco che non era un album, ma all'epoca si chiamavano i Q-Disc, erano dei vinili dove c'erano solo cinque canzoni, tipo due da un lato e tre da un altro, viceversa. E c'era la donna cannone che io... beccai subito che era una canzone strepitosa. Poi quello è stato un periodo molto magico per Francesco, molto speciale. Quei dischi là, Titanic e la donna cannone, è proprio un momento altissimo. C'è una poesia incredibile, anche armonicamente. Perché poi lui era già famoso da tanti anni, però diciamo che ha uno stile che aveva magari più appeal per i testi, piuttosto che proprio prettamente per la musica. Invece quel disco lì è proprio bello tutto. È bello tutto e quindi me lo ricordo. È sempre una canzone che ascolto molto volentieri. Ciao. Domanda? La domanda di Nel Duda Fiumicino. Ma secondo te, tu sei mai fatto sto calcolo? Con 7000 caffè, quanti tiramisù ci vengono fuori? Io mi sono treppato un pomeriggio a pensare sta cosa. Cioè, c'hai mai pensato? Ho fatto... Io ho fatto un conto generico. Ho fatto che per un tiramisù ci vanno 5 caffè. Vabbè, innanzitutto a casa come facciamo? Con la moca. Però dai, una moca da 5, da 6. Quindi con 7000 caffè ci vengono fuori 1400 tiramisù. Pensa che roba. Però era una scusa per tirar fuori la domanda. Ma come ti è venuta fuori la metafora dei 7000 caffè? Cioè, perché proprio 7000? Casseggiando, ovviamente. Perché qui a Roma... Perché non 8000 caffè? Perché suonava meglio 7. Proprio suonava meglio. Perché qui tendiamo sempre... tendiamo a giocare, no? Fa parte del nostro dialetto. Quindi se dici... se dici vuoi un caffè, non dici... guarda, no, guarda, ne ho presi troppi oggi. E dici, no, guarda, ne ho presi già 2000 oggi, basta così. Allora volevo fare... volevo scrivere qualcosa che ci avesse questo modo romano di esagerare. Quindi ho detto 2000... però 2000 caffè suonava male. 5000, mi servivano due sillabe, 5000 suonava male. 7000 suonava bene, c'è la S, no? Proprio come ritornato era una bomba. E sempre collegandomi... guarda, ho studiato, poi sembra... collegandomi ai 7000 caffè voglio passare a Sanremo, perché tu partecipasti con questa canzone a Sanremo 2003 e eri arrivato secondo, giusto? Ho scaricato all'astetico... ti dico giusto, ma ho scaricato... ho scaricato all'astetico. Comunque tu hai partecipato a cinque festival di Sanremo. La prima domanda è prevedi altre partecipazioni future? Fatti i cassi tuoi. Sì, sì, mai dire mai, nel senso... E poi... e poi invece in quel Sanremo lì ho visto tutti quanti, diciamo, i partecipanti che erano... c'era un grande cast. Dopo di te arrivò Sergio Cammariere, Enrico Ruggeri, però prima di te, prima a quel Sanremo arrivò Alexia. Alexia, sì. Alexia, che era la prima volta che cantava in italiano, ma non si poteva fare i cazzi sua. Cioè, magari magari inizia l'anno dopo, capito? Cioè, comunque avresti vinto quel festival che secondo me poi, o dico io, secondo me tu meritavi pure. Tanto gli avresti dato un'altra statuetta a tua madre, quindi... Perfetto, sarebbe stata contenta lei. Ma sai, io vivo il festival di Sanremo, l'ho vissuto sempre in un modo molto disincantato. Nel senso, sì, lo seguivo da ragazzino, l'ho seguito un po' da grande, però lo seguivo più dal punto di vista mio professionale. Quindi il festival di Sanremo, a parte vincerlo, per me era una... è come quando vai a fare una super televisione. Cioè, di solito vai a fare una televisione, ti vedono due, tre milioni di persone. Contemporaneamente vai a fare il festival di Sanremo, ti vedono venti milioni di persone. Quindi per me era quello, era fare arrivare la canzone, che infatti è arrivata. E quindi non mi ricordo appunto, cioè il fatto di vincere o meno a volte è relativo, perché spesso se io porto una canzone a Sanremo è perché gli voglio bene, sono molto orgoglione di quella canzone, di averla scritta. E quindi voglio il successo della canzone. E quindi io mi ricordo quel Sanremo come un Sanremo molto vincente. Quindi ho un gran ricordo e quindi no, Alexi ha fatto bene a fare il pezzo quell'anno, perché magari se avessi vinto sarebbe stato diverso, non lo so. Però non mi sono mai lamentato. Comunque tu hai partecipato a cinque festival, lo sai c'è la classifica di più partecipazioni meno. Il primo è Albano con tredici festival di Sanremo, quindi ci vuole tempo. Sì, ma voglio. Ma ci stanno un sacco di cantanti anche giovani, giovanissimi, usciti dai talent. Invece cinque festival... L'hanno già battuto. Cinque festival però li hai fatti tu, Adriano Celentano, Gino Paoli, Lucio Dalla, Mia Martini e Fiorella Mannoia. Cioè che voglio dire... No, ma ti assicuro che ci stanno... C'è una bella compagnia. Cioè ci stanno nomi molto più recenti che hanno fatto più festival di me. No, però voglio dire. Però cinque butti via, insomma... Sì, sì, sì. C'è anche chi proprio è un, diciamo, un cavallo da Sanremo, cioè che fa tanti festival. Che ne fa tanti, sì, sì. Ma sì, perché poi fondamentalmente è una... è una vetrina. Ti ho detto, io l'ho sempre vissuto in un modo disincantato. Cioè la vivo da professionista, da uno che va lì per fare numeri. Nel senso, numeri perché tu per fare dieci interviste ci metti dieci giorni. Mentre invece quando vai al festival di Sanremo, tu in un giorno ne fai cinquanta le interviste. Perché lì ci stanno tutte le radio, tutti i giornali, tutti i magazine. Stanno tutti lì a Sanremo quella settimana. E quindi è un modo per, in una settimana, dieci giorni, per fare una mole di lavoro che altrimenti ci metteresti mesi. E quindi vai lì, appunto, per cercare poi di caldeggiare la canzone, non te stesso. Quindi, cioè, le cose del Sanremo, il sogno da piccolo, le cose... No. Poi la canzone che invece la porti e funziona... Cioè, no, magari sì, ma non è quella la cosa più importante. Perché poi quando stai lì, ti disincanta il festival stesso. Le persone con cui lavoro ti portano tipo... Sai il dottor Tersilli quando passa da uno studio all'altro a visitare i clienti? Eh, tu sei così però con i giornalisti, con le radio, con le televisioni. Sei sballottolato da una parte all'altra. Probabilmente ti darà questa testimonianza anche altri cantanti che hanno fatto il festival. Quindi quando stai lì non ti rendi conto di nulla, non ti ricordi niente. Dopo che hai finito la settimana torni a casa e ti sembra di essere stato fuori quattro mesi. E poi ti ho detto che sono le canzoni che devono andare bene. E quindi non cambierei nulla di quell'anno di 7000 cassetti. Sono arrivato secondo, però la canzone è ancora conosciutissima. La conoscono tutti. E di quella canzone, oltre al successo della canzone, ad esempio, pur non avendo vinto il festival, però c'è una vittoria mia personale che in tutta Italia, per tanti anni dopo il festival, aprivano i bar che si chiamavano 7000 caffè, ce ne stanno anche un paio a Roma. E ultimamente ne ho visto uno, manco lontano da casa mia, che adesso i negozi quelli che vendono le cialde... Ah, sì, sì, sì. Anche ho visto qualcuno di quelli che si chiama 7000 caffè. Vabbè, però è figo. È fighissimo. Meglio quello che... Quella è una vittoria. C'era un periodo che aprivano tutti c'è pizza per te, anziché c'è posta per te, no? Sì, sì. Era inerente, era pure figo. Ma quella è la vera soddisfazione perché vuol dire che sei entrato nel popolare, sei entrato nel popolo, nel modo di dire, una volta si chiamavano usi e costumi. E quindi quello è il successo, quello è il gol più figo che puoi fare. Senti, facciamo un salto avanti e poi rifacciamo un salto indietro. Il salto avanti è perché il 3 novembre è uscito il tuo ultimo singolo che si chiama Supereroi. Sì. Noi in questo podcast facciamo sempre una domanda che immagino che però a te con questo titolo, con questa canzone adesso ti stiano facendo tutti. Però noi la facevamo prima. Ed il testimonio l'abbiamo fatta sempre a tutti. Chiediamo all'ospite che ci viene a trovare qual è il superpotere che vorrebbe avere, soprattutto in relazione ai tempi che viviamo adesso, per facilitare un po' una vita che è un po' complicata. Ora, la cosa bella del tuo brano è che tu parli di superpoteri invece che hanno le persone che tutti i giorni si impegnano proprio perché non ci hanno privilegi, perché fanno lavori semplici, perché portano avanti il paese. Quindi probabilmente il tuo approccio, credo, a questa idea è un po' diverso dal superpotere del supereroe classico. Certo, certo. Il superpotere classico di quelli di fantasia dei ragazzini che mi piacerebbe avere. Questa è la domanda. Mi è sempre piaciuto quello dei Fantastici Quattro che si allunga. Questo non ce l'ha detto nessuno, lo sai. Elastic Man. Elastic Man. Io avevo pure il giocattolo che non si rompeva mai, che potevi tirare da un braccio all'altro. E non l'hai rotto? No, ma forse perché non c'avevo la forza però, secondo me solo i bambini. Ho sempre pensato, non lo so, che stai sdraiato sul divano a guardare una cosa e ti prendi un bicchiere d'acqua in cucina. Quindi comunque i superpoteri li useresti per salvare il mondo? No. Ma che? Oppure giochi a tennis e prendi la palla all'angoletto e dici non ci arriva, non ce l'è, invece ci arrivi. Capito? Una cosa più pratica. Ecco, più pratica. Poi quello di salvare il mondo. Non lo so. Mi ha sempre divertito molto quel personaggio, quel ruolo lì. Ho visto anche ovviamente il film, no? Quello che è uscito qualche anno fa, dieci anni fa. Io mi sono sempre chiesto, chissà se gli si allunga tutto, tutto, tutto. Una bana stupida come cosa, lo so però. Però, però insomma… Se si allunga anche lì potresti rimanere sul divano e andare a trovare tu moglie nell'altra stanza. Non lo so, non ci avevo mai pensato a questa stanza. La bambina era proprio una persona di pigrizia, di stassene sbaccato sul divano e fa tutto nel frattempo per casa. Ci andava la patrice. Basterebbe insegnarlo al proprio figlio questa cosa, sai? Perché è una delle utilità più grosse dei bambini piccoli. Eravamo noi da ragazzini e facevamo la telecomanda, no? Ah, davvero da piccolo papà ti diceva. Alza il volume, va a cambiare a canale. Senti, invece, prima di uscire dal tema musica, mi faceva piacere che tu ci raccontassi, così come hai fatto a cena, quell'episodio… abbiamo parlato già quando è venuto Daniele Silvestri qui del locale, di questo posto a Roma, dove sono passati tantissimi di attori, musicisti, registi, in un momento particolare per la città dove probabilmente stavano nascendo una serie di cose, tutte persone che poi hanno avuto un enorme successo, diciamo, nelle loro carriere. Anche tu sei passato da lì, però mi ha divertito molto il racconto che ci facevi di quello piccolo spettacolo teatrale che avete fatto. Ti va di raccontarcelo perché non te l'ho mai… Come no? Era, che era, il 95, 95 e mi chiama… sento Max Gazzè che suonavo insieme in quel periodo, era il bassista del gruppo, del trio blues con cui suonavo e mi diceva, guarda, dei miei amici hanno aperto un locale, dai andiamolo a vedere, è fighissimo, andiamo, andiamo, andiamo… e un giorno mi è venuto a stanare da casa e mi ha portato al locale e quindi ho cominciato anche io ogni tanto ad andarci e poi un altro che mi veniva proprio a stanare di sole perché abitavamo vicini a Trastevere con… veniva sempre Federico, Zampaglione, mi citofonava tipo a luna di notte, andiamo al locale, andiamo al locale, dai andiamo a berci una birra e poi torniamo a casa e quindi cominciavo a frequentare il locale e fino a che poi mi chiesero di fare uno spettacolo teatrale che si chiamava Radio Estetica che si svolgeva tutto dentro una radio, dentro una stazione radio e c'erano due intervistati e due intervistatori, quindi era tipo stasera, solo che gli ospiti erano due e che poi però gli intervistatori in realtà odiavano gli ospiti che erano dei personaggi famosi, era come voi insomma, era proprio uguale, uguale e quindi… e quindi cominciavano a metterli un po' in mezzo, a stimolarli, a stuzzicarli e questi alla fine si incazzano, insomma stanno quasi per litigare e allora dicono vabbè allora se siete veramente bravi dovete battere il mega killer mercenario e io ero il killer mercenario che arrivavo con la chitarra in scena, tiravo fuori la chitarra e facevo la sfida, il duello contro gli altri due che vincevo, poi mi pagavano, me ne andavo e finiva poi lo spettacolo teatrale. È stato molto divertente, molto d'avanguardia perché poi il locale era un buco, aveva un palco piccolissimo e addirittura già suonarci era difficile, ma farci uno spettacolo teatrale ti assicuro che era ancora più difficile, però noi eravamo giovani… E chi erano due degli altri? Perché questo quadretto è stato particolarmente simpatico… Due che erano i personaggi famosi, uno era Matthew Marston, un ragazzo americano che poi è tornato a casa e non sta più qui da tanti anni e l'altro era Rocco Papaleo che ha sempre, oltre ad essere un grande attore, ha sempre scritto canzoni, suona la chitarra, si è sempre direttato a fare il cantautore, quindi… Poi avevamo parecchi amici in quel periodo, ci frequentavamo tanto, quindi… E invece i due presentatori, cioè quelli che facevano il ruolo vostro praticamente, erano Alberto Molinari e Flavio Insinna. E quindi già… Insomma, già si capiva che… Insomma, Flavio era uno di spessore, quando arrivava lui sul palco faceva delle battute più trascinanti e che faceva… faceva molto ridere. Anche con lui ci frequentavamo… Un periodo ci aveva preso… Lui voleva scrivere canzoni, quindi avevamo scritto un po' di canzoni che lui aveva scritto, i testi e io avevo scritto la musica. Poi però non se ne è fatto nulla. E grazie per questo racconto, Decore, a me questa immagine di te Rocco Papaleo e Flavio Insinna che nel 95 fate uno spettacolo teatrale, mi sembrava abbastanza inedito. Non so se l'avete mai raccontato in un'intervista o… Boh, boh… O se esistono dei frammenti di questa cosa ripresi… No, ripresi non credo, esiste qualche foto… All'epoca portarsi una telecamera… Una telecamera era costosa, no? Una cinepresa, una telecamera, quindi nessuno… Non c'erano i telefonini, quindi… Ogni tanto qualche foto… Qualche foto ogni tanto sbuca, foto di scena… Perché poi facemmo un mese tutte le sere il primo anno lì al locale. E poi l'anno dopo replicamo e facemmo un mese al Teatro La Cometa. Quello in centro davanti al Campidoglio, sempre in zona lì. Quindi, insomma, siamo stati tanto insieme, stavamo tanto insieme… Ci divertivamo un sacco, ci divertivamo veramente tanto… Quindi poi ovviamente c'era tutto il giro appunto del locale che venivano… O ospiti che venivano a vedere lo spettacolo… Poi finiva lo spettacolo, si mettevamo a suonare, si faceva sempre tardi… Insomma, è stata un bel periodo, molto divertente, molto creativo poi… Però non hai nostalgia di… Cioè, lo dicevamo a cena, non sei… Tipo nostalgico di questi periodi di una volta… Cioè, per te non è un… Oddio, se ripensa stasera da quella, secondo me un po' di nostalgia… Che viene… Un po' di viene… Ma ne capisco pure… Ovviamente mentirei se non dico che ho nostalgia dei vent'anni, insomma, del periodo… Però credo anche che ogni periodo, ogni età che uno si vive ha il bello che è per quell'età… Quindi se oggi a 55 anni continuassi a fare la vita di quando ne avevo 25 sarei un po'… Sicuramente anacronistico, probabilmente anche patetico, no? Quindi… Quindi va bene così… Adesso prima facevo quella vita, poi ne ho fatta altre, poi ho cambiato… Adesso ne faccio un'altra ancora, ma no che mi soddisfa di meno di quella lì… Hai altre priorità, hai altre cose che ti emozionano… Sei più grande, siamo diversi, hai un'altra maturità, un'altra consapevolezza… Te voglio… Te voglio far venire veramente a malinconia… Ti vedo scaltro a te… Volevo sapere se tu hai la tecnica infallibile per non far cascare i pomodorini da bruschetta… Hai visto quando… Quando te mangi la bruschetta che i pomodorini è praticamente… A metà te vanno in bocca… Il resto vanno… Vanno ovunque… Ce l'hai una tecnica? L'hai mai studiata? No… Le bruschette… Ne salvi… Più della metà li salvi… Fai tipo una sorta di… De crostini… De crostini… De… Una tagliata… Perfetto… Sai la carne quando ti porta una tagliata… Fai una tagliata di bruschetta… Oggi vanno tutti sti termini, no? Ti fai una tataki… De bruschetta… A celebrity Masterchef… Quanto… In che posizione eri arrivato? Non mi ricordo… Eri… No… Non me lo ricordo niente… Tu stai fissa per le classifiche comunque… Qualsiasi cosa classifiche… No ma se non ricorda siete cresciti subito… No ma non so… Sì quasi… No a metà più o meno… Ma anche… No no… Non mi ricordo neanch'io… Lo sapevo… Non ce l'ho la classifiche… C'ho solo Sanremo… Con sto Sanremo… Ce la dai una ricetta di core? Un tuo cavallo di battaglia? Inviti un amico a cena… Una cosa che… Vai sul sicuro… Che fai spesso… No… Non mi piace andare sul sicuro… Cioè sì… C'erano mille che vado sul sicuro… Però di solito… Un gioco che mi piace fare… È che quando chiamo gli amici a cena… A pranzo… Faccio scegliere loro… E… Gli dico cosa vogliono mangiare… Io dico qualche giorno prima… Così poi io mi faccio la spesa… E cucino quello che vogliono loro… Vedi però… Nella tua fantastica carriera… Diciamo… Da musicista… Sei… Iper modesto… Invece da cuoco sei coatto… Cioè nel senso… Sì… È vero… Hai detto… Hai detto no… C'ho parecchi i cavalli di battaglia… Beh perché… È inutile… Cioè non sono… Non sono modesto… No… Anche… S'ho coatto pure quando suono… Con la chitarra… Quando canto un po' meno… Ma quando suono… Slego i cani… E… Quando cucino mi piace… Perché comunque è una sfida… È uno stimolo… Non mi piace andare sul sicuro… Mi devo divertire… Mi diverto… Anche se non faccio bella figura… Difficile… E allora… Allora il gioco… Lo facciamo al contrario… Nel senso… Danilo ti da una ricetta… E te ci dici come si fa… A questo punto te sfidiamo… Ma sai… Ad esempio… Non voglio interrompere… Però… Una sfida anche che faccio… È che quando vado in un posto… E mangio una cosa… Che mi piace un sacco… C'ho i testimoni… Poi torno a casa… E me la rifaccio… E… Più o meno… Se non la rifaccio uguale… Però mi ci avvicino sempre… Ma ritrovi i sapori… Cioè… Tipo riesci a capire… Se dentro c'è stato il limone… Sì… Sono molto attento a… Insomma… A saper riconoscere gli ingredienti… Sì… È una malattia anche quella… È come quando ascolto la musica… Che sento… Oltre ad ascoltare la canzone… Senti anche le frequenze… Ti immagini che posizioni prende la chitarra al bassista… Dove picchia… Dove mena il batterista… E così… Quando mangi un piatto… Cerco di… Ma anche le ricette etniche… Tutto… Sì… Però a me mi piacerebbe… La cosa che ti riesce meglio… È possibile… Una non c'è… Proprio… Quella che dici… Che è che mi riesce meglio… Magari a loro non ti piace niente… Le vongole… Lo spaghetto con le vongole sì… È un grande classico… Che è la cosa più difficile da fare secondo me… Servono le materie prime buone… Se hai uno spaghetto di alta qualità… La vongola di alta qualità… L'olio di alta qualità… Il sale… L'acqua… Questo è sempre la cosa che ho detto ai mega chef… Devi stare soltanto a non rovinare le vongole… Grazie al cazzo… Cioè nel senso che poi vi è buono… Chef stellato… Se fa pagare il piatto 100 euro… Poi dice… No ma l'importante è i suoi prodotti… Eh… Però ce vuole pure… Ce vuole pure il manico… Suo spaghetto con le vongole… Ci vuole il manico… Vedi vicino al mare… Non so meglio le telline… Cioè io lo so… Per me la tellina batte la vongola 10 a 0… Allora… Se proprio voglio entrare nello specifico… La tellina è buona… Ma te stressa… Perché te fai… Tutte le due te la succhiate e consumate… No… Te fai uno sforzo incredibile per mangiare due cucchiaini di telline… Perché poi sono piccole piccole… Buone… Eccezionali… Tutte quante… Però io preferisco le vongole… E nello specifico… Preferisco quelli che ci stanno lì da noi… Tu siete i fiumicini… I lupini… I lupini… E quindi mi faccio… Di solito faccio una mezza… Che se prendo per tre persone… Prendo un chilo… E prendo metà lupini e metà vongole veraci… Sempre meno vongole veraci… Perché non si trovano quelle naturali… Sono tutte allevate… E vengono tutte quante… Ormai in tutta Europa… Perlomeno c'è un seme filippino… Che è stato adottato già una ventina di anni fa… E le vongole… Quelle italiane sono… Sanno di abborbidente… No, sono scomparte… E le vongole veraci… No, non ce stanno… No, sì… Quelle d'allevamento… Quelle d'allevamento… Però almeno sono grosse… Se prendi… Anche lì c'è allevamento e allevamento… Se prendi un allevamento di qualità… Le paghi un po' di più… Però sono buone… Se poi le mischi con i lupini… Il lupino ti dà il sapore del mare… La vongola ti dà… Un po' di cosa che mangi… E viene un bel piatto… Questo… Questo è un segreto… Lupino e vongole… E le serbi sgusciate… No… Metà in metà… Quelle che si sgusciano da solo le lasci così… Sì… No, tutte… Dentro… C'è pure chi le sguscia tutte… Oppure chi fa 50%… 50%… C'è varie… Cerco di… Cerco di capire quando… Ce l'hai le mani… Cioè nel senso… Chi viene… Ce l'hai le mani… Sgusciate da solo… Sì… Guarda… Sempre… Un po' e un po'… Nel senso che comunque… Quando le spadelli se le salti… Le vongole col calore… Si staccano dal guscio… Quindi… I gusci… Quelli che vedi vuoti… È meglio toglierli… Primo perché… Ingombrano troppo il piatto… E secondo perché… Quando io sono… Un utente… Cioè che mangio… Quando trovo le vongole vuote… Mi incazzo come una bestia… Quindi… Cerco di non farlo succedere… Ai… Commensali… Quando vengono a casa mia… Quindi quelle vuote… Le levo… C'è capacità… Si sente… Già che hai detto… A vongola si stacca da sola… Qui c'è… C'è tecnica… Ma è un minimo… Quindi… Senti… È la tua idea imprenditoriale… Sempre per restare in ambito… Io ho una grandissima idea imprenditoriale… Voglio aprire la panineria Decore… Cioè con tutti i panini degli ospiti… Gli do il nome… Naturalmente… Non do un euro a nessuno… Cioè prendo tutto… Quindi il panino Alex Britti… Beh… Non con le vongole sicuramente… Che ingredienti ha? Dicci… Parti dal pane e ce lo farcisci… Ma non lo so… Allora… Parto da… Vista dall'alto… Cioè serve sicuramente una proteina… Cioè una carne… Qualcosa… Un pesce… Sicuramente una verdura… Che… Gli da un po' di acqua… Che lo rende più morbido… E un pane buono… Soffice… Però possibilmente croccante… Ai lati… Fuori… Quindi non lo so… Di solito… Una carne… E una verdura… Non lo so… Mortadella… E rucola… Pezzetto di mozzarella dentro… Cioè deve essere sempre qualcosa di morbido… Qualcosa di carne… Qualcosa di acqua… Quindi di solito verdura… Magari con un po' di maionese spalmata… Prima di metterci le cose dentro… Che è pure quello che dà… Morbidezza… E sapore… E a maionese ovviamente… Me la faccio… Non la compro… Quindi… Mi piace quella comprata… Mortadella e insalata… Mortadella… No… L'insalata no… Mi fai morire di fame… Con la rucola… Con la rucola… Non sopia nessuno secondo me… No… Invece non è sopia… Mortadella e rucola… Vabbè… Rucola e mortadella… Bella bina mia… Vabbè… Chiamo Panino Alex… Cioè per non… Sapete… Non vedi… Britti che ha fatto… A me dispiace… Pane e mortadella… Ma secondo me… Non lo so… Per il gusto mio personale… Adesso che diventiamo… Tutto… Tutto è… Tutto è gourmet… Adesso c'è la pizza gourmet… Il panino gourmet… Il panettone gourmet… Tutto gourmet… E non è… La differenza del gourmet è che costa un botto… E questo qua… Esatto… Più o meno… Da uno normale… E questa… Però a me… A parte lo stupore della prima informazione… Ti dicono… Faccio il panino gourmet… Ti fai wow… Però… Però non lo so… È meglio i gourmet… Lasciarli fare ai gourmet… E chi fa i panini… Facessi i panini… Perché ne ho assaggiati tanti di panini gourmet… Cose… Particolari… E poi però… Quando ti fai una cosa semplice… Perlomeno… Io suono blues… Capito… Quindi sono uno… Aioio… Cioè il panino gourmet… Non mi piace… Il pane e mortadella… Le cose… Più semplici… Se voglio il panino… Cerco quello… Se poi cerco la cosa gourmet… Me ne vanno nel ristorante… Strafico… E mi vanno a mangiare cose gourmet… Facciamo un grande applauso a… Alex Britti… Grazie… Senti questo era il tuo ultimo singolo… Che… Per chi ti segue… Che cosa… Gli aspetta per il futuro… Altri brani… Concerti… Che… Che c'hai in… In preparazione… Sicuramente… Un po' tutto… Ho altri brani… Non so quando uscirò con un album… Perché… Perché sono in una specie di fase… Un po'… Così devo capire… Perché oggi esci con un album… Anche la parola album… Cioè… Un retaggio… Di un tempo già passato… Ma non ci stanno gli album… E oggi escono le canzoni… E li vedi anche… Perché quando esci con un album… Esci con 13 canzoni… E poi li vedi… Le più cliccate… Sono due… Le altre non le caga nessuno… E cagano soltanto i singoli… Quindi voglio… Continuare a dare la giusta attenzione alle canzoni… Attenzione che spero… Per lo meno… E quindi vorrei uscire sicuramente… Prossimamente con un altro singolo… Tra un po'… Quando ha sfumato questa supereroi… E poi… Sicuramente in estate… Uscerò… Finalmente con l'album… O qualcosa che somiglia di più a un album… E magari con un altro singolo ancora… E fare il contrario… Come si faceva prima… Non sto inventando nulla… I Beatles… Facevano i singoli… E poi quando erano usciti con un po' di singoli… L'album era il raccoglitore… Come se fosse il best of dei singoli di quel periodo… Sì perché sembra una cosa di adesso… Un trend di ora far uscire solo singoli e non dischi… In realtà è una cosa che… Si faceva pure prima… Si faceva negli anni 60… Sì… Perché prima… Si vendevano i 45 giri… Più degli album… Certo… A casa tutti avevano per ascoltare i 45 giri… E poco… E pochi avevano per ascoltare gli album… Poi avevano una mano con la tecnologia… Negli anni 70… E cambiarono tutto… E si facevano gli album… Bene… Noi siamo tutti orecchie… Aspetteremo le prossime uscite… Senti… Per quanto riguarda la sezione cinematografica di Decore… Ti abbiamo chiesto due film Decore… E tu ci hai detto… La Dolce Vita… Sì… Perché La Dolce Vita è Decore per te? Perché La Dolce Vita è il film che ha dato il via… A un certo tipo di cinematografia in tutto il mondo… Tutti i registi del mondo si sono ispirati a quel film… Che è pazzesco… Oggi è difficile vederlo con la testa di oggi… Perché tratta argomenti e modalità che sono scomparsi… Quindi bisogna un po' rimedesimarsi in quello che poteva essere la vita… Negli anni 50, 60… Primi anni 60 in Italia… Però… E vabbè… Quello come sociale… Come trama del film… Però proprio tecnicamente… Da regista… Da direttore della fotografia… Quel film è stata una novità incredibile… E un sacco di registi… Che poi hanno fatto la scuola del cinema moderno… Si sono ispirati… A quel film… Per lavorare loro… Quindi… Tutti quelli più famosi… E quel film è stato rifatto anche un sacco di volte… Non perché l'hanno rifatto… Cioè non era la cover… O il sequel… Della Dolce Vita… Però un sacco di film di… Di… Altman… Altman è uno che ha preso… Ha attinto… Dalla cinematografia… Cinematografia di Fellini… Proprio… A piene mani… E anche… E anche… E anche… Dio John Lapsus… Dai Shining… Kubrick… Kubrick… Più volte dichiarato… Che ha preso un sacco di ispirazioni… E poi lui… Con quel film… Ha dato il via… A quel tipo di film… Dove ci sono varie storie… Che si incorociano… Pur rimanendo sempre lo stesso film… E quindi… Per questi due motivi… Primo perché mi è piaciuto… Un casino quando l'ho visto… E poi perché… Un orgoglio italiano… Cioè noi… Non ci facciamo caso… Però… Quando senti tutto… Il cinema grosso… Il cinema più importante… Che c'è sempre stato… È americano… Quando ci dicono… Tanti… Tantissimi registi… Che hanno attinto… E devono tutto… A quel film… Ti fa capire… Che Fellini… Stava con una spanna… Soprattutto… E non l'abbiamo… Non l'abbiamo capito… L'abbiamo capito… Soltanto in un piccola parte… Nei primi film che ha fatto… Lui fece i Vitelloni pure… Che era un film… Che era un po' il preludio… Di quello che poi è stato… La dolce vita… Aveva fatto la dolce vita… Cose… Che ha fatto dopo… Molto oniriche… Molto visionarie… Erano un po' avanti… Rispetto a quello che era… La cultura media… Dell'italiano… Degli anni 60… Negli anni 70… E… Però a me… Insomma… A me ha toccato molto… È un film… Che metto sempre in cima… Alla lista dei film… E poi ci ha detto… Il ladro di orchidee… Il ladro di orchidee… Sì… Perché è un film… Che mi è piaciuto un sacco… Mi piace sia l'autore… Charlie Kaufman… Ha scritto un sacco di… Ho letto anche un po' di libri suoi… Che poi sono diventati i film… E lui… Soprattutto i film suoi… Che ha fatto Spike Jonze… Come appunto… Il ladro di orchidee… Ma come anche… Essere John Malkovich… E altri film… Un sacco di altri film… Quelli fatti con Spike Jonze… Quando tu ti leggi un libro… E poi ti leggi… E poi ti vedi il film… Trovi sempre un sacco di distacco… Tra il libro e il film… Sì… Mentre invece… E… Kaufman scrive… Secondo me… Scrive proprio già pensando al film… Quindi… C'è meno distacco… E ti godi sia il film… Che il libro… Poi è una questione di gusto… Magari piace a me… Un altro no… Però… Il ladro di orchidee… È il film… Forse più completo… Che ha fatto Spike Jonze… E che ha scritto Kaufman… Trovo il romanzo più completo… Poi gli altri film… Per esempio… Per essere John Markovic… È un'idea… È visionario… È pazzesco… Però è anche molto brillante… Spesso… Invece… Il ladro di orchidee… È un film… Molto… Strutturato… E anche lì… Mi riporta un po' alla dolce vita… Perché ci sono più storie… Dentro lo stesso film… Che si intrecciano… Cioè… Un personaggio… Che fa da minimo… Come un denominatore… Come magari ha stato Mastroianni… Sulla dolce vita… E che invece poi… Si porta dietro tutto il film… E scopri cose nuove… Ti tiene lì appeso… Fino all'ultimo… Poi… Parlare di film… È relativo… Poi a me piace… Un certo tipo di… Cinematografia… Amo anche i fratelli Cohen… Quasi tutto quello che mi hanno fatto… Mi piace un sacco… Però… Voi mi avete chiesto di dire… Un titolo dei core… Io già ne ho detto i due… Mi sono fermato… Perché sono un po' in… Tu hai pure lavorato… Diciamo… Facendo musiche… Per film… E invece… Ti è mai capitato il contrario… Cioè… Vedendo un film… Prendere ispirazione… Per una canzone tua… No… No… Non credo… Mi sia mai capitato… Eh… O meglio… Mi può essere capitato… Perché amo il cinema… Vedo un sacco di film… E… E ovviamente… Per scrivere una canzone… Devi avere un'urgenza dentro… E l'urgenza è provocata… Da un'emozione forte… E spesso… I film hanno… Ti lasciano… Dei ricordi… Di emozioni molto forti… E quindi sì… Può provocartela un film… Ma… Può provocartela… Anche… Un tramonto… Una partita di calcio… Una chiacchierata… Con un amico… Tante cose… Quindi… Tra cui… Sì… I film… Però devo dire che… Spesso… Mi ricordo in particolare… Che ho visto un film… Bellissimo… Strepitoso… Incredibile… Però veramente angosciante… Ti lascia proprio… Un amaro in bocca… Una sensazione… Stranissima… E quindi… Spesso… Magari… Uso la musica… E uso la scrittura… Per riequalizzarmi… Come antidepressivo… Diciamo… E funziona… Mi ricordo… Quando ho scritto… Solo una volta… Tutta la vita… E… Avevo iniziato… A casa… A vederlo in VHS… L'Ultima Donna… Di Marco Ferreri… Che è un altro regista… Che amo… Mi piace un sacco di film… Che ha fatto… E' uno dei più cattivi… E' uno dei più cinici… E erotici… Che abbiamo avuto in Italia… Soprattutto il primo Ferreri… Poi quando era diventato… Alla fine… Un po' pure erotico… Strano… Per forza… No… Un po' meno… Però c'era il film… L'Ultima Donna… Con Don Lamuti… E Gerard Depardieu… Che era un film… Aghiacciante… Ti lascia… Un amaro in bocca… Che io ho finito il film… Avevo bisogno di… Di ripositivizzarmi… E quindi mi ricordo… Cambiai le corde alla chitarra… C'avevo una muta di corde nuova… Quando metti… Una muta di corde nuove… Io poi le cambio… Proprio una volta all'anno le corde… La chitarra sono tutta squillante… Tutta bella… Più accesa… Più… E quindi ti dà… Un senso di positività… Io ho visto questo film… Qua quando è finito… Ho spento… E ho scritto… Solo una volta… Tutta la vita… Proprio per fare da… Da contraltare… Pensa che nel finale del film… Depardieu… Il protagonista… Prende… Un coltello elettrico… E si taglia una parte… Molto importante del corpo… Quindi puoi immaginare… Come mi ha lasciato… Ero veramente… Che poi è un fake… Perché i cortelli elettrici… Intagliano niente… Non lo so… Io a casa ce l'avevo… Era inutile… E ci hai provato… No… Non tagliava il pane… Quindi immagino… Cioè… E magari non il pane… Ma il pene… Io non ci ho provato… Ho scritto solo una volta… E comunque… Mi è andata bene così… Mi è andata molto bene… A giudicare dal pezzo… Senti… Invece i libri… E mi è rimasto pure… E se pure… Diciamo… Integro… Senti… Ma… Libri… Ci hai portato due libri… 101 storie zen… Perché questo libro… Sei rimasto sull'uno… Sul 101… Ma guarda… Sto libro… Se volevo chiudere la mano… Il libro 101 storie zen… Perché quando l'ho letto… Parecchi anni fa… Una trentina d'anni fa… Mi ha illuminato… Per usare un termine… Tipico di quel libro… Perché sono… Perché mi piace la filosofia zen… L'ho scoperta… L'ho scoperta poco prima… E… E quel libro… Dice tanto… È un libretto… Sono storie… 101 storie… Tutte molto brevi… E… E fa tanto… Se sei in grado di capirlo… È un libro… Che può aiutarti tanto… A me mi ha aiutato tanto… Mi ha aiutato a diventare uomo… A diventare… A diventare… A vedere le cose… Sempre da… Cercare di vederle da un punto di vista più alto… Di quello più terreno… Spicciolo… E… Ed è un libro… Incredibile… Se lo leggi… Se non sei particolarmente predisposto… Di 101 storie… Forse ne capisci tre o quattro… Alla prima lettura… Ed è… Un libro… Che ho fatto… Un giochino… Che faccio da tanti anni… In ultimi anni… Sono un po' diminuito… Quando ho avuto… Il bambino… Insomma… Un sacco di cose… Un sacco di modalità… Le ho dovute cambiare… Però prima… Facevo… Questo giochino… Con un libro… E con un disco… Cioè… Compravo il libro… Lo leggevo… E quando avevo finito di leggerlo… Lo regalavo a qualcuno… E poi… Dopo un po' di mesi… Me lo ricompravo… Lo rileggevo… E lo regalavo a qualcuno… Quindi lo leggo… Più o meno una volta l'anno… Ne avrò regalati… 25-30 di questi libri… Ogni volta me lo rileggo… E poi lo regalo… E faccio questa cosa… Con 101 Story Zen… E facevo questa cosa… Anche col disco… Pink Moon… Di Nick Drake… Lo compravo… Quello… Me lo ascoltavo comunque… Perché tanto ce l'ho registrato… Ce l'avevo… In altri modi… Però era un altro disco… Ognianto compravo… E lo regalavo… Compravo… E lo regalavo… Penso di aver comprato… 30 o 40 dischi di Pink Moon… E regalati agli amici… Così come 101 Story Zen… E poi ci hai portato… Un libro di Terzani… Sì… Buonanotte signor Lenin… Ah ok… Buonanotte signor Lenin… Un libro che mi ha… Fatto conoscere… La storia… Una parte di storia… Una parte di geografia… In un modo… Che a scuola… Non me l'hanno insegnata… E non ce l'hanno insegnata… Scopri… Da grande… Se sei curioso… Scopri che c'era… Non una vera e propria censura… Però c'erano dei filtri… Nell'informazione… Nella comunicazione… Che ci hanno fatto arrivare… Delle cose… Diciamo… Mirate… E quindi lì… E quel libro… Ti spiega… Cos'era… L'Unione Sovietica… Se vuoi capire bene… Cosa era… L'Unione Sovietica… Tiziano poi scriveva… Benissimo… E… In quel libro… Ti spiega… Oggi torna… Anche utile… Perché… Anche adesso… Con quello che sta succedendo… Avendo letto quel libro… Capisci un po' di più… Perché adesso… Continuano… A succedere… Certe cose… In… In quei territori… C'era… L'Unione Sovietica… Ora non sto… Racconto il libro… Anche perché è un tomo alto così… Però… C'era… L'Unione Sovietica… In quel periodo… Lui era in… In un viaggio giornalistico… Sul fiume Amur… Che è il fiume… Che segna il confine… Tra… L'Unione Sovietica… E la Mongolia… Poi arriva fino alla fine… Di quella parte di… Di Asia… Diciamo di quel blocco di terra centrale… La parte destra… Che somiglia… Al Portogallo… Cioè dove finisce… La terra… E poi inizia il mare aperto… C'è l'Oceano… E vai negli Stati Uniti… Dall'altra parte c'è l'Oriente… Quindi poi dall'altra parte c'è… Cina… Giappone… C'è il mare aperto… Come si chiama… La terra dei poeti… Perché vanno a guardare… E lui era… In un viaggio giornalistico… Sull'Amur… Mentre sono in viaggio… Ed era un viaggio… Che c'era… Gli ospiti… I passeggeri erano… Sembra come quelli delle Barzellette… C'era un francese… Due italiani… In tedesco… Un americano… C'era una spedizione di giornalisti… Di tutto il mondo… Che facevano questo viaggio… Culturale… Attraverso l'Unione Sovietica… E mentre loro stanno… Attraversando questo viaggio… Crolla il muro… E si sfalda… L'Unione Sovietica… E… E da come ha vissuto lui… Da quello che ha vissuto… Per cercare di tornare a casa… E per cercare di informarsi… Di capire cosa stesse succedendo… Ti fa capire perfettamente… Cosa è stata… L'Unione Sovietica… E soprattutto… Dopo… Appunto… Che è finita… Cosa non è stata… E cosa sono diventati… Quei paesi… Che hanno raggiunto di nuovo… Sono tornati a quell'indipendenza… Tanto cercata… Ma che poi ha portato… Tutta una serie di… Di difficoltà… Che ancora vivono… E ancora adesso… Leggiamo sui giornali… Quindi lo trovo proprio… Uno spaccato di storia… Contemporanea… Quasi contemporanea… Molto importante… Di storia e di sociale… E di politica… Inevitabilmente… E noi ti ringraziamo… E aggiungiamo questi film… E questi libri… All'elenco dei film… E dei libri di core… Che ci hanno portato… Gli ospiti… Che ci sono venuti a trovare… Con l'idea… Che magari chi… Non ha letto… Non ha visto… Questi film… Questi libri… Se li va a riscoprire… Perché magari li sente… Raccontati da… Da te… Che in questo caso… Evidentemente… T'hanno particolarmente… Coinvolto… Noi siamo arrivati… Praticamente… Alla fine dell'intervista… Che… Come sempre… Scherzando e ridendo… Sono un paio d'ore… Che… Alex… Si è prestato… Tipo un sequestro… Poi una certa diventa… E quindi… Vogliamo fare i ringraziamenti… Ringraziamo tutti voi… Che siete venuti ad assistere… Dal vivo… A Decore Podcast… Vogliamo ringraziare… Riverside… Che ci ospita… Vogliamo ringraziare… Marco De Tommasi… Al mixer… Di sala… In Matteo Piero Avanti… Alle registrazioni… E… Vogliamo ringraziare… Soprattutto… Alex Britti… Che è stato qua con noi… Grazie… Grazie a voi… Ringraziamo anche… Dopcast… Che produce… Questo… Questo podcast… E… Ti facciamo… L'ultima domanda… E poi ci sentiamo… L'ultimo brano… Decore… Scelto da… Alex Britti… E… La domanda che facciamo… Per concludere il podcast… Solitamente… È questa… Probabilmente… Te ultimamente… Sei anche diventato… Più pratico… Di favole… Perché hai un figlio… Piccolo… E nella favola di Peter Pan… I pensieri felici… Servono a… Raggiungere l'isola… Che non c'è… Nella vita di tutti i giorni… Spesso è… Comunque… Abbastanza impegnativa… I pensieri felici… Servono a darci… Un po' di serenità… E… Ci piace… Quest'idea Decore… Di sapere… Quali sono i tuoi pensieri felici… O la cosa che ti mette serenità… Ti riporta un po' di… Di calma… Ma delle cose… Comunque semplici… In questo momento… Passare delle giornate… Tranquille… Serene… Con mio figlio… Divertirci… E fare le cose più semplici… Quindi… Un po' suonare… Cerco di farlo suonare… Non gli va tanto… Preferisce… Però… Suona con Garage Band… Si fa un po' di basi… Comincia… Ecco… Una giornata del genere… Poi ho comprato… La… La parannanza… Non così… Il grembiule… Se no… Se no… Poi mi dicono che parlo romano… Si incazzano… E… E… E lo faccio cucinare con me… Gli ho comprato anche un coltello grande… Ma di plastica… E gli faccio tagliare le cose morbide… Così intanto inizia… A tagliare le zucchine… E quindi lui si mette in cucina… Aiuta papà… E… Ecco… Passare le giornate con lui… Felici… Sereni… A fare le cose più… Più semplici… Oggi è… È un bel gol… Mi fa sentire a fine serata meglio di… Insomma… Non dico delle Charles… Però è una cosa molto simile… Solo che è tutti i giorni… Grazie Alex Britti… Grazie… Buonanotte… Una produzione… Dopcast… Grazie…